Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con la Samp Allora, quest'oggi inizieremo la puntata con la sfida di Champions contro lo Spartak Musca che in caso di vittoria ci garantirà già appunto la qualificazione agli ottavi poi affronteremo il Chievo che è appena stato promosso dalla Serie B e poi abbiamo la sfida in casa al Ferraris contro l'Atalanta Andiamo subito ad accogliere in casa appunto la squadra russa giocheremo con la formazione dei titolarissimi visto che poi diciamo fra 4 giorni o comunque 5 abbiamo la sfida contro il Chievo quindi diciamo c'è anche tempo nel caso per recuperare comunque prima maglia contro prima maglia nella partita di andata vista in due puntate fa abbiamo vinto addirittura 8 a 1 in casa loro quindi oggi diciamo è importante provare a bissare lo stesso risultato appunto comunque diciamo possiamo andare in campo il tempo è coperto l'importante è che non piove e forza ragazzi faccio subito pari in avanti Kai Havertz buona per Mbappé che è in aria va col sinistro subito occasione per Kylian Mbappé ma palla troppo alta faccio a Renan Lodiga un po' di spazio può andare ottima la finta c'è palla arretrata per Merino volevo servire Sané comunque De Jong dentro Havertz palla fuori un'altra grande occasione forse era fuori gioco no addirittura calcio d'angolo quindi il portiere l'ha toccato comunque palla dentro ancora Maschimenko che esce Kim Pepe palla fuori attenzione siamo subito ancora in aria Kai Havertz vedi qui De Jong che la mette fuori qui grandissima occasione col sinistro è completamente sbagliato occhio ancora Kai Havertz vedi ancora un insegnamento Michal Merino palla dentro Bappé si gira Bappé stavolta non si sbaglia 1 a 0 finalmente riusciamo a sbloccare il punteggio dopo diciamo tre limpide occasioni comunque 1 a 0 segna sempre Kylian Mbappé battuto il portiere che si chiama Max Mienko una cosa del genere mi sembra comunque dovrebbe essere così comunque 1 a 0 il punteggio segna Kylian Mbappé che se non sbaglio dovrebbe essere addirittura 9 gol in Champions in sole 4 partite impressionante occhio a Havertz ottimo lancio in avanti per Mbappé che può andare Mbappé si gira Mbappé la mette col destro mamma mia Kylian Mbappé troppo forte ormai veramente troppo troppo facile veramente si passeggia sulle difese avversarie 2 a 0 Samp doppia età per il nostro Kylian Mbappé paradossalmente la squadra che ci ha messo in più difficoltà è stata proprio il Bologna nella scorsa puntata è stata sicuramente la partita più combattuta come diciamo già abbiamo detto abbondantemente nello scorso video comunque 2 a 0 il punteggio doppietta per Kylian Mbappé che adesso è in doppia cifra siamo ancora in avanti Alexander Anno Michael Merino per De Jong ancora a cercare Mbappé che si è girato Mbappé spacca la porta 3 a 0 tripletta per Kylian Mbappé che non c'ha veramente senso ogni pallone che tocca è semplicemente gol riguardiamo qui l'assist è di Frankie De Jong Mbappé si fa leggermente appunto passare il pallone avanti e poi col sinistro ha spaccato ancora una volta la porta ancora pallone avanti Aversu ancora Mbappé stavolta ha esagerato un po' il tiro qui veramente molto brutto e sballato ancora Kylian Aversu ancora dentro Mbappé no palla fuori l'avevo vista dentro Occhio Trinzao un po' di spazio può andare vola Francisco Trinzao gran contropiede Trinzao no si è fatto volare il tiro da Maximenko qui è veramente una grande occasione peccato abbia sbagliato a tu per tu il nostro Trinzao comunque il primo tempo sarebbe abbondantemente finito però ci fanno ancora battere sto calcio d'angolo l'ha presa Michalmerino ma palla fuori e fine primo tempo Occhio ancora pallone avanti se ne è passato fortissimo se ne è palla retrata Aversu no col sinistro qui diciamo l'ha presa un po' col corpo all'indietro quindi era difficile riuscire a tirare nel modo corretto però non ci è andato manco lontano attenzione Mbappé Aversu bella la palla per Merino che non può sbagliare 4 a 0 il fronteggio segna anche Michalmerino ancora un assist per Kai Aversu che mi aspettasse facesse forse qualche gol in più però alla fine diciamo è sempre fondamentale in mezzo a campo e più che evidente la sua presenza in mezzo a campo comunque rivediamo qui appunto il gol di Michalmerino che col sinistro di prima intenzione non ha sbagliato 4 a 0 il punteggio Occhio ancora pallone avanti a cercare Sané molto bene Sané sterza Sané vediamo se ha il destro Sané non male il portiere qui deve rispingere sul lato e lo Spartak spazza via il pallone comunque siamo sempre in avanti fallo laterale battuto da Arnold Trinzautok ancora per il terzino ex Liverpool ancora Frankie de Jong palla dentro per Mbappé che sta a porta venire in chiuso e commette forse anche faulo Occhio allo Spartak qui miracoloso intervento di Onano ma poi purtroppo dobbiamo sempre subire quel golletto inutile che dà molto fastidio e arrivano anche i cambi per la nostra Samp dentro Mason Greenwood al posto di Kylian Mbappé qua Sanz al posto di Michel Merino e Visser sulla destra al posto di Trinzau attenzione Mason Greenwood tocco per Quassans bello per Havertz ancora una volta palla troppo alta ma ottima azione pali in avanti di Havertz per Greenwood di prima bella botta e para ancora il portiere Maximenko occhio ancora che Havertz può andare dentro ancora Greenwood e stavolta la centra è come la porta 5-1 Mason Greenwood sinistro poteroso imparabile imprendibile per il portiere segna come sempre anche Mason Greenwood che ogni volta che entra riesce sempre a appunto far gol quindi credo che abbia una media gol diciamo veramente impressionante soprattutto diciamo se paragonata ai minuti effettivamente giocati comunque 5-1 in punteggio bel gol di Mason Greenwood qui e termina anche qui il match 5-1 in punteggio siamo arrivati appunto a 12 punti in classifica e quindi dovremmo essere matematicamente qualificati per la fase eliminazione diretta eccoci qua raga diamo un rapido sguardo alla classifica appunto del nostro girone mancano appunto due partite quindi 6 punti a disposizione il terzo posto dello Spartak Mosca appunto dista 10 punti quindi siamo sicuramente qualificati è chiaro che diciamo dobbiamo giocarcelo con il Tottenham per il primo posto perché in caso il Tottenham riuscissi a vincere tutte e due le sfide arriverebbe a 13 punti però è abbastanza difficile ok ora sotto subito con il Chievo ci sono dei piccoli cambi di formazione praticamente ci sono dei giocatori un po' più stanchi adesso diciamo ve lo mostrerò subito mettiamoci in maglia bianca dai secondo me è la scelta migliore comunque appunto abbiamo sempre Onana in porta Lodi sulla sinistra che impepe dei lighi di centrali sulla destra abbiamo Arons a posto di Arnold che era particolarmente stanco invece al centrocampo perché il merino De Jong è russo al posto di Avers che anche lui era molto stanco e poi in attacco Comanda anche lui al posto di Sané che era stanco e poi ovviamente i soliti Bappé e Trinsao è comunque se non sbaglio la prima volta in tutta la nostra carriera che affrontiamo appunto la squadra Clivenze oggi subito il Chievo in avanti molto pericoloso con Max Tideonan a cui deve appunto anticipare gli attaccanti avversari ma possiamo subito provare a ripartire con Franceschino Russo che la dà subito in avanti per Michael Merino ancora un tocco per Mbappé che prova ad andare solo lui Mbappé è più veloce Mbappé il sinistro Semper pare in calcio ad angolo che batte Frankie De Jong palla dentro niente da fare c'è Russo vai col sinistro Russo ottimo il tiro poi respinte il miracolo la palla rimane lì e clamorosamente Mbappé la messa fuori che occasione occhio Franceschino Russo ancora lui in avanti tocca lì indietro per De Jong che cerca spazio Frankie De Jong vedi Michael Merino in aria il sinistro palo clamoroso non è possibile siamo già troppo sfortunati ma subito palla recuperata ancora Merino questa volta l'ha provata forte sul primo palo rasoterra ma ancora Semper che para tutto ancora Frankie De Jong porla dentro mamma mia l'aveva presa Coman palla fuori eh quest'anno da corner diciamo siamo fortissimi occhio al Chievo in aria ogenda qui grande occasione per il Chievo che stava per passare in vantaggio Maonana qui ottima copertura sul suo palo ma sarà comunque il calcio d'angolo che è a trabattere gioia e l'hobi vediamo un po' col sinistro l'hobi palla dentro anticipa l'odima non sbagliamo qui proviamo a ripartire Russo molto bene allarga per Mbappé che può andare Mbappé vi dico Man però che ha molto più spazio Coman viene chiuso qui senza fallo purtroppo e mi sa accidenti che si è fatto pure male speriamo che non sia nulla di grave comunque Russo qui e conquista il pallone vediamo un po' Russo in aria fa tutto da solo e la mette dentro Franceschino Russo vediamo un po' se Coman sta bene ho provato ad abbracciare lui comunque mi ha fatto l'esultanza 1-0 il punteggio molto bene Franceschino Russo come al solito non sbaglia mai si dimostra sempre all'attezza della situazione riguardiamo qui il gol questa volta ha preferito fare tutto ma proprio tutto solo lui e fortunatamente l'ha messa dentro 1-0 stava per morire anche con la voce fantastico eccolo qui subito Coman che è tornato praticamente in forma fortunatamente quindi vuol dire che è tutto a posto e non si era fatto nulla meno male ma possiamo subito ripartire De Jong bella palla dentro per Mbappé che ci prova da lì mamma mia un missile forse almeno un passo avrei dovuto farlo però diciamo mi ispirava troppo il tiro da quella distanza comunque molto molto bene qui sia il nostro attaccante ma anche il portiere del Chievo che si è disteso alla grande comunque De Jong palla dentro ancora sempre il cash ma c'è Trinsao vediamo un po' prova a metterla al giro ma palla ribattuta ottima idea però ancora palla dentro l'inserimento di Frankie De Jong vediamo un po' si gira De Jong bene dentro Merino qui col sinistro non riesce a metterla dentro ma siamo ancora in avanti palla buona per Mbappé che purtroppo è sfortunato e perde il rimpallo occhio Franceschino Russo vedi molto bene Merino il destro ancora una parata calcio d'angolo De Jong vai De Ligt De Ligt è riuscito a metterla dentro perfetto il colpo di testa qui arriva il raddoppio bravissimo qui il nostro difensore olandese perfetto stacco di testa questa volta manco il portiere sempre ha potuto far nulla anche se stava parando qualsiasi cosa li guardiamo qui appunto come al solito l'assist di Frankie De Jong e De Ligt che praticamente schiaccia a terra e qui però diciamo sbaglia completamente il portiere occhio ancora palla dentro Russo si gira vediamo un po' Russo ancora per Mbappé bellissima la palla ancora per Russo che azione signori si intendono molto bene anche questi due 3 a 0 Samp doppietta per Franceschino Russo che quando viene chiamato in causa è sempre essenziale si dimostra fenomenale il nostro Franceschino Russo che è diventato ormai un 80 e diciamo qui è molto bravo nel triangolo con Kylian Mbappé e termina anche il primo tempo 3 a 0 il punteggio per la nostra Samp che è in netto controllo sostituzioni Samp Doria 3 a 0 il punteggio però secondo tempo abbastanza povero di emozioni non è successo veramente niente comunque dentro Avers al posto di Russo Greenwood al posto di Mbappé e Parreal al posto di Trinzao comunque proviamoci adesso subito con Greenwood appena entrato Greenwood viene chiuso peccato occhio Arons prova a penetrare lui vediamo un po' palla qui molto bene per Merino Merino che può provarci a girare sul primo palo ma palla fuori occhio Kai Avers in area Kai Avers una finta bellissimo Avers no sarà per fare veramente un gol molto bello molto anche complicato però peccato occhio ancora De Jong ancora per Avers che ancora non riesce a segnare fa un miracolo sempre purtroppo questo secondo tempo è abbastanza sfortunato soprattutto Kai Avers che appunto non riesce a metterla dentro comunque può riprovarci vediamo un po' Kai Avers serve De Jong prova a servirlo di nuovo ma la palla va a finire a Michael Merino dentro per Greenwood Greenwood niente da fare volevo provare a riservire di nuovo Avers però purtroppo non mi è stato possibile comunque termina anche il match alla fine appunto secondo tempo abbastanza poco emozionante comunque finisce qui il match 3-0 di punteggio un'altra bella vittoria allenamenti salgono Visser e Arons Visser diventa un 76 invece Arons un 83 molto bene ancora allenamenti questa volta a salire solamente Quassans che diventa un 81 ok adesso andiamo a sfidare per finire al meglio quest'altra puntata anche l'Atalanta siamo a 36 punti in campionato 12 partite disputate tutti quanti hanno giocato la tredicesima giornata tranne noi in questo momento siamo a più 4 dal Piemonte Calcio ma è chiaro che in caso di vittoria quindi è chiaro che andremo a 39 punti e quindi a più 7 dal Piemonte Calcio che è comunque un ottimo vantaggio quindi andiamo a sfidare Bergamaschi andiamo a scegliere le divise li mettiamo decisamente in maglia bianca speriamo che non confondano più di tanto visto che sia i pantaloncini che i calzettoni sono uguali per entrambe le squadre comunque abbiamo appunto la formazione dei titolarissimi tornano tutti quanti anche Arnold Havertz e Sene quindi andiamo in campo occhio Havertz bella dentro subito un pape gran parata di Gollini ma subito grande azione velocissima della nostra Samp occhio ripartenza Samp Trinsau molto bene addirittura per Renan Lodi Lodi vediamo un po' il sinistro palla troppo alta che occasione per il nostro terzino brasiliano occhio all'Atalanta in area Paoligno attenzione il destro di Paoligno che spacca la porta e batte una grandissima conclusione qui del centrocampista credo brasiliano Paoligno qui dell'Atalanta che si porta clamorosamente in vantaggio in casa nostra attenzione Merino gran palla dentro Bappé col sinistro di prima intenzione non è fuori gioco ok 1-1 il punteggio l'abbiamo rimessa subito a posto come al solito ci pensa il nostro Kylian Mbappé che va ad esultare con i suoi tifosi qui gran passaggio di Michel Merino che fa scattare la perfezione Kylian Mbappé che fortunatamente non era in offside e col sinistro qui prima la tocca proprio leggermente col destro e poi col sinistro tiro imparabile per Gollini 1-1 bene così Occio Trinzao grandissima palla dentro ancora per Mbappé 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 provato a piazzarla ma qui bisognava tirare molto prima non so perché non l'ho fatto era abbastanza defilato quindi non me la so sentita forse per quello peccato Occio Michel Merino per Sané passa da quest'altra parte vediamo un po' Lodi prova a girarsi Renan Lodi vedi qui ancora Michel Merino si gira il destro di Michel Merino miracolo e colpo di testa sul palo di Kai Havertz che però era anche in fuorigioco Occio Merino dentro vai Havertz e stavolta finalmente l'ha messa dentro e tutta la puntata che ci provava e non solo comunque 2-1 il punteggio ripassiamo in vantaggio comunque rimontiamo l'Atalanta e ci portiamo in vantaggio 2-1 Kai Havertz qui ottimo inserimento diciamo che hanno provato a farci nervosire a farci arrabbiare noi abbiamo risposto alla grande alla nostra maniera 2-1 molto bene Kai Havertz che sono curioso di vedere a quanti gol è in campionato è a 8 non male fine primo tempo 2-1 il punteggio per la nostra Samp che appunto è riuscita a rimontare Occio Michal Merino ancora dentro un Bappé Bappé il sinistro qui molto bene arriva la parata però di Gollini Occio attenzione all'Atalanta qui grande occasione che la sfrega clamorosamente Murer qui più che alto grande parata di Onana però diciamo sul colpo di testa qui è veramente praticamente a porta vuota quindi ha fallito una grande occasione dobbiamo stare attenti e provare a fare il terzo gol per mettere le cose in sicurezza palla per De Jong in avanti Avers molto bene Mbappé Mertipiedino niente da fare ancora Gollini che esce e salva tutto purtroppo non riusciamo a fare il terzo gol diciamo a portarci sul doppio vantaggio sarebbe molto molto importante perché l'Atalanta sembra essere veramente molto pericolosa qui palla rubata di Trinsau dentro Mbappé ancora Trinsau vai Trinsau vai col sinistro giro molto bene Francisco Trinsau 3 a 1 il punteggio bene così bravissimi ragazzi Franzischino Trinsau è uscito malissimo comunque arriva il 3 a 1 qui bravissimo proprio Trinsau a rubare palla poi chiude il triangolo con Mbappé e poi bellissimo il sinistro giro del nostro attaccante portoghese che qui ha fatto un gol bellissimo imparabile per gollini 3 a 1 bene così occhio ancora l'Atalanta vi do palla per Paoligno ancora il sinistro di Paoligno palla fuori è veramente una spina nel fianco questo Paoligno sostituzione per la nostra Samp dentro Gabriel che mi aveva chiesto di scendere in campo al posto di Kim Pepe quindi lo faccio giocare poi dentro Gravenberch al posto di Frankie De Jong e poi entra anche Coman sulla sinistra per Sané occhio qui gran palla dentro per Mbappé vedi da solo Alexander Arnold addirittura Mbappé niente da fare io volevo servire Gravenberch non ho capito perché mi era data così lunga per Arnold comunque Mbappé palla per Avers va col sinistro blocca blocca Collini ancora in avanti Avers Merino molto bene dentro Mbappé la prova addirittura da lì Collini qui deve fare una gran parata forse ha scheggiato anche la traversa comunque qui liberato in rovesciata addirittura il difensore dell'Atalanta comunque sta di fatto che termina qui il match 3-1 per la nostra Samp che vince anche contro i Bergamaschi molto bene anche per oggi abbiamo concluso appunto il video abbiamo concluso le tre partite le abbiamo vinte ancora tutte e tre diamo come al solito uno sguardo alla classifica anche se diciamo era appunto già scontata visto che ci siamo riportati a più sette dal Piemonte Calcio e chiaramente anche dall'Inter comunque dando un rapido sguardo anche in basso alla classifica c'è proprio il Chievo che ancora deve vincere una partita se noi l'abbiamo vinta tutte e tredici il Chievo le ha perse tutte e tredici con solamente quattro gol realizzati ecco quindi la che io per l'appunto mi fermo qui mi invito a lasciare un like o un commento ma soprattutto a iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti